Ricavi oltre un miliardo di euro con un utile netto di 18 milioni e 800 mila euro. Estra ha approvato il bilancio con cifre più che promettenti in vista dell'ingresso in borsa, un leggero calo del meno 2,4% dovuto alla minore attività nel settore del trading. Il margine operativo lordo, in gergo EBITDA adjusted consolidato, si è attestato 86,7 milioni di euro, evidenziando nel 2017 una crescita del 4,1% rispetto agli 82,6 milioni del 2016 e determinando la crescita dell'EVITDA margin dal 7,9% all'8,5%. L'utile netto adjusted consolidato si è attestato ai 18,8 milioni di euro, più un per cento rispetto allo scorso anno. Estra ha compiuto poi un altro passo in avanti verso il consolidamento della sua presenza nel medio adriatico, aprendo l'ingresso a molti servizi nel suo capitale sociale. Nel 2017 ha proseguito il suo percorso di crescita attraverso operazioni industriali e politiche di sviluppo commerciale, raggiungendo una quota complessiva di oltre 750 mila clienti. Nella distribuzione di gas naturale, Estra ha investito in estensioni di reti e sviluppo di know-how per rafforzare la propria presenza nei territori storici. Negli ultimi anni il gruppo ha anche ampliato il proprio approccio ai settori di business tradizionali, grazie all'apporto dei comparti Information and Communication Technologies, con 611 chilometri di fibra ottica di proprietà. Il patrimonio netto consolidato al 31-12-2017 ha raggiunto 331,9 milioni di euro, con una crescita rispetto ai 320,5 del 31-12-2016. L'esercizio appena concluso conferma l'andamento positivo del gruppo in continuità con i risultati ragguardevoli riscontrati lo scorso anno, ha affermato Francesco Macri, presidente di Estra. I principali indicatori economico-finanziari sono in crescita, attestando la validità ed efficacia dell'indirizzo intrapreso d'Estra, così come la sua capacità di crescita in tutti i settori industriali in cui opera. Innovazione, sostenibilità, vicinanza, radicamento ai territori rappresentano valori chiave alla base di questi importanti risultati su cui continueremo a fondare e a costruire il futuro di Estra.